Scusate se oggi non ve l'ho detto, che mi ho dimenticato che oggi c'era la finale di Europa League. Marcia-Atletico Madrid, la son vista tutta la partita, ha vinto l'Atletico Madrid 3-0, penso il risultato abbastanza meritato anche perché Marcia non ha fatto nulla, tranne i primi 10 minuti dove sembrava che si volesse portare a casa questa Coppa, malgrado non fosse la scuola favorita, poi Griezmann ha trovato il gol da lì, in Marcia non ha fatto più niente, tranne il 4-0 che quantomeno ci stava provando con un colpo di testa, però poi la palla è andata sul palo, è stato anche un po' sfortunato il Marcia, però per vincere l'Europa League e anche per Champions League ci vuole sempre un po' di fortuna ragazzi. L'Atletico Madrid ha avuto fortuna, ha praticamente dominato una partita, perché la Marcia ha fatto il 20%, l'Atletico Madrid ha l'80%, quindi meta di vincere l'Atletico Madrid, due gol di Griezmann, l'ultimo gol, non mi ricordo chi l'ha fatto, però 3-0 ragazzi, un puntato devastante per l'Atletico Madrid ha vincito l'Europa League, quindi affronterà una Supercoppa Europea ora la Madrid o il Liverpool. Ecco, io spero il Liverpool, cioè io spero che il Liverpool vinca la Champions, però vorrei mettere una Supercoppa Europea l'Atletico, anche se comunque in finale ti ferò Liverpool, la Madrid Liverpool, forza Liverpool. Quindi niente ragazzi, Simeone sta festeggiando, ora festeggiando tutti giustamente perché hanno vinto l'Europa League, la Coppa UE, una coppa di importanti, assolutamente, nessuno lo nega. Complimenti a Simeone, complimenti a Tico Madrid, che dopo aver sussito mano a mano alla Champions, si è rimesso in sesto, o forse manco ci è andato, se non mi sbaglio, beh, ora non mi ricordo sinceramente, comunque ha vinto l'Europa League meritatamente, una partita, insomma, è dominata da Tico Madrid, ripeto, cade qualcosina dal massimo, i tifosi comunque stavano risultando, stavano credendo lo stesso, poi quando è arrivato il 3-0, giustamente, tutti, come hanno detto, vabbè, ormai la vincono loro, la Tico Madrid era la squadra favorita, e niente ragazzi, hanno vinto l'Europa League, complimenti al Ciolo, diciamo, perché il Ciolito gioca nella Fiorentina, per quello del Ciolito 3-0, avete già capito tutto. Comunque, niente, l'Atletico Madrid vince la Champions, complimenti, niente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Francidongo, mi raccomando di Roberto Minnella, PlayStation Gamer 99, il canale di Manuel Arracuri, niente, ci vediamo domani con un'altra novità, come avevo promesso che vi avevo portato in settimana, qui niente, ciao ragazzi. Grazie a tutti.